Con noi Flavia Marzano, la Presidente degli Stati Generali dell'Innovazione che si sono tenuti a Roma. Allora Flavia, in sintesi, un primo bilancio di questa due giorni appassionante, ricca di scambi, di condivisioni e soprattutto di ottime proposte? Guarda, l'hai detto tu, appassionante, e il fatto che fosse appassionante implica proprio che evidentemente abbiamo toccato un nervo scoperto. C'è bisogno di innovazione nel Paese, c'è bisogno di mettere a fattor comune tutte le capacità, le competenze, le teste, che sono tante e bellissime, nel nostro Paese, in tutti i settori, in tutti quelli che noi abbiamo chiamato stati, appunto, facendo gli Stati Generali dell'Innovazione, quindi nella pubblica amministrazione, nelle imprese, nell'associazionismo, i cittadini, le persone sono pronte e il Paese ne ha bisogno. Flavia, questo è stato un appuntamento che si è caratterizzato per essere apartitico e trasversale ai partiti. Qual è, secondo te, l'effettivo ruolo che la politica e i partiti italiani possono svolgere in questo contesto di cambio radicale? Allora, la politica, intanto, prima di tutto dovrebbe forse studiare un po' e cercare di capire, di parlare la lingua, perché a volte li sentiamo un po' scollati e l'abbiamo visto anche proprio ieri durante il dibattito, seguendo i vari tweet che venivano fuori, che erano entusiasti durante tutto il tragitto, non lo sono stati durante, un po' meno, diciamo, durante le relazioni dei vari politici. I politici sono però ovviamente la nostra sponda. Noi siamo sicuramente multi-stakeholder e multi-partisan, se vogliamo dirlo, ma noi facciamo politica dell'innovazione. La politica dell'innovazione va condivisa e elaborata insieme a tutte le forze politiche. Flavia, è ipotizzabile, secondo te, come avanzato anche da parte della palestra della creatività e dell'innovazione, creare una vera e propria classe dirigente, porre le basi per la nascita di una classe dirigente di innovatori che possano in un certo qual modo condurre la politica italiana al raggiungimento di obiettivi concreti? Secondo me si formano da soli, perché i ventenni di oggi ci sono immersi, se noi riusciamo a mettere le basi per le politiche dell'innovazione, cresceranno insieme a noi anche le nuove classi dirigenti. Grazie.